Siamo con Giovanni Lavarra, a lui chiediamo come e se può una città essere rigenerata dall'architettura? Una città può essere rigenerata da tante cose, l'architettura è una delle componenti che possono contribuire, però in questo momento abbiamo tante architetture, le città sono piene di architetture vuote, quindi in qualche caso si tratta di fare architetture nuove per funzioni che ancora non hanno spazio, in altri casi si tratta di collocare in architetture che esistono funzioni che stanno cercando lo spazio, quindi non sempre l'architettura è una soluzione. Stiamo chiedendo agli ospiti del Futur Forum qual è secondo loro la loro parola del futuro, la sua qual è? Sarà banale magari, ma credo che sia condivisione, penso che stiamo andando anche se faticosamente verso un mondo in cui i beni sono sempre più condivisi e sono sempre meno personali, credo che quello che sta succedendo attorno all'automobile, cioè il fatto che nelle grandi città si usano le automobili in comune sia un segno positivo a mio avviso di un cambio di paradigma profondo.